Coronavirus. Gli ultimi dati ufficiali diffusi ieri parlano di 9 morti e di 67 nuovi contagi per un totale di 4.489 casi, cifra che mantiene purtroppo Cremona in cima alla triste classifica dei malati con un'incidenza pari all'1,25% rispetto alla popolazione contro l'1,03 di Lodi, lo 0,9 di Bergamo e lo 0,8 di Brescia. Migliorano intanto le condizioni del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che tuttavia è risultato ancora positivo al coronavirus. Eccezione virtuosa sul territorio, quella di Pessina Cremonese dove si è registrato un solo decesso all'inizio della pandemia, poi più nulla in un comune che si era blindato però sin dall'inizio indossando le mascherine quando ancora non erano obbligatorie. Avviato intanto il monitoraggio tramite tampone su tutti gli ospiti della Fondazione di San Bassano è una risposta da parte delle case di riposo in una situazione all'interno di queste strutture davvero emergenziale.